amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive siamo qui in officina da noi abbiamo una macchina non particolarmente non estremamente particolare questa è una bmw serie 2 una 220 turbodiesel di un cliente che la usa in maniera abbastanza sportiva è una macchina che abbiamo già avuto in carico tempo fa dove uno dei lavori principali che il cliente ci ha chiesto è verniciare in un colore questo caso non è stata vera parte è stata riverniciata tutta la carrozzeria che ci ha chiesto di riverniciare la carrozzeria in questo colore particolare che a lui piaceva e abbiamo fatto quello che riteneva opportuno quello che adesso ci ha chiesto e fare un upgrade perché è arrivato veramente alla frutta come si suol dire con i freni quindi siamo dovuti intervenire mettendo a posto sistemando tutta la parte dell'impianto frenante quindi abbiamo montato i soliti dischi abc puntati e baffati il fatto che il fuoco sia puntato non va non essendo passante non va a indebolire la struttura del disco abbinato a questo disco le pastiglie gialle che sono quelle che si abbinano per avere un utilizzo sportivo stradale e poi vabbè abbiamo montato questi distanziali che servono per avere questo tipo di cerchio particolare cerchi sono là in fondo ha cambiato il tipo di cerchio e averlo a filo con la carrozzeria quindi soprattutto per quanto riguarda la manutenzione diciamo siamo intervenuti sia sull'asse anteriore che sull'asse posteriore quindi nonostante non sia una vettura diciamo particolarmente particolarmente performante comunque una vettura che utilizzata in maniera sportiva ha sempre delle prestazioni abbastanza corpose abbiamo fatto ai tempi abbiamo fatto la centralina quindi è una macchina che sicuramente si avvicina ai 200 cavalli il fatto di avere un impianto frenante sportivo aiuta nelle in una guida sportiva e rende la macchina ovviamente più sicura vi direi che anche per questa bmw 220 è tutto se per qualunque tipo di informazione avete bisogno mi potete contattare in sede allo 0 2 7 3 8 3 1 7 5 consultate il sito www 9 milagiri.it nell'archivio elaborazioni cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima